ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi se vi piace questo video lasciatemi sotto nei commenti un coriccino grazie sotto nella descrizione vi lascio un super codice di 50 per cento per la marca madame glam che potete usare sul loro sito e il 9 maggio e 10 maggio per acquisto di almeno tre prodotti carico il prodotto solo nella punta del pennello aggiungo i contorni dei fiori con paint bianco senza dispersione a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attacco i berlantini di misura SS3 su top coat senza dispersione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.